È fondamentale che il vaping sia considerato per quello che è, cioè un settore appunto che è utilizzato dalle persone per divertirsi, per fare una cosa che gli piace, ma fondamentalmente che evita che queste persone fumino. Proprio per questo è importante rilevarlo bene, anche a livello di rilevazione presso le imprese, in modo che si sappia l'importanza di un settore del genere. La direttiva europea è già diventata legge, ora quello che dovremmo fare è far sì che questo settore abbia una tassazione ragionevole. È ragionevole per esempio tassare i prodotti che hanno nicotina, tassare in modo particolare i prodotti che hanno nicotina, mentre gli altri prodotti dovrebbero avere semplicemente l'IVA come qualsiasi tipo di cosa che viene venduta. Io mi auguro che questo riusciamo a farlo molto rapidamente, siamo in attesa anche di una sentenza della Corte Costituzionale su questo e immagino che una volta che ciò verrà chiarito il settore potrà, come è accaduto anche in altri paesi europei, decollare e diventare un settore d'eccellenza del Made in Italy.